Una rete per uscirne, un convegno organizzato da Appello per l'Ecco con il contributo di Areu, l'appuntamento è il 23 maggio alle 21 a Palazzo Falca, il tema è la violenza sulle donne ma con risposte che vogliono essere il quanto più possibile concrete. L'argomento è la violenza di genere però con un taglio molto concreto, infatti sarà un sinergismo fra il civismo, cioè la popolazione attiva, attenta e presente sulle problematiche sociali e la rete antiviolenza, una struttura che è molto presente ed attiva sul nostro territorio ed è composta da associazioni di volontari altamente preparati, di professionisti, parlo di medici, psicologi, psicoterapeuti, avvocati ed istituzioni e le forze dell'ordine. Svilupperà principalmente due argomenti, la sensibilizzazione sulla violenza intesa come principalmente violenza psicologica perché è un argomento secondo noi poco trattato ma che può dare i primi segnali di allarme. Abbiamo detto un convegno prettamente operativo, in quest'ambito verrà presentata un'importante app del 118 studiata proprio per le donne vittime di violenza. Sì, parliamo dell'applicazione We are Who, per questo abbiamo anche il patrocinio di Areo Lombardia, sarà illustrata dettagliatamente, è un'applicazione che si può scaricare gratuitamente dallo smartphone, permette a tutti di essere, una volta aperta questa applicazione, di essere localizzati da un GPS, di mettersi in contatto direttamente con il 112, le forze dell'ordine, in questo modo la vittima può collegarsi, essere localizzata, non parlare, ma ciò che le succede intorno viene registrato e ascoltato dall'altro filo del telefono.